E' stato un periodo e continua a essere un periodo piuttosto difficile in cui però stiamo scoprendo molte cose di noi stessi, per esempio una cosa che non tutti ma alcune persone hanno scoperto è quanto facciamo parte di un tutto, di un tutto più grande di noi. La vita è una scuola molto dura che ci mette di fronte a dei compiti che ci sembrano impossibili e poi magari non sono proprio impossibili. Il nostro compito come psicoterapeuta e anche come medici, anche credo come insegnanti, anche come genitori, è di metterci accanto e camminare accanto a una persona. Bisogna farlo con gentilezza, con amore, allora si funziona. Lugina mortale, cioè la cura è far bene alla vita. Per me nella mia professione, che è quella di psicoterapeuta, è mettersi al servizio dell'anima. Per me nella mia professione, che è la nostra professione, che è la nostra professione, che è la nostra professione. Grazie a tutti.